qua due team dietro quest'albero qua angelo fa full team qua sotto raga ah ma tutti i bot sono purple ma c'è un altro team mi sa teniano colpi cose lascio portati li prendo cecchino se avete forte le posso portarla io è morto in volo da laguna si full team col team 120 bianco noccato bianco che buono non li vedo tutti morti no mancano due in teoria no terra ancora dovrebbe mancare l'ultimo occhio che da daily sicuro ci escono c'è gente con lì più 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 muccio lo scollinato io scollinato angelo angelo a sinistra fermo immobile no craccato qua qua sono un coglione l'ho missato stava fermo immobile rompo la pietra bello in canale la pigliamo l'altezza stefano noi non ci hanno visto stami cecchinando eh ma non te la spaccano uh dart fener è quasi morto non c'è un'altra punta ma c'è un'altra punta terra sta giunca al strato Come si sapevi io Ah è lì Preso 40 40 40 Craccato Dove cazzo è andato 4 contro 1 siamo GG Grava, gg Stéphano, figa Pafferola